Ma il disegno è per te o 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 è per te Guai a chi lo tocca Pensavo volessi regalare Praticamente chi ha un disegno così? Posso aprire un museo e far pagare l'ingresso secondo me Sapete che c'è gente che partirebbe dalla Sicilia per visitare la mostra in cui ci sono le opere originali del maestro Posso aprire un museo di figlio? Se ada un video li riguarda 5 minuti Non è più mi piace Ci guardiamo un museo di Giovin Di spazio di Piazza 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 E' bello notare l'espressività, avendo solo disegnato gli occhi non sarebbe stato necessario rubare la bocca per capire che l'espressione era comunque di sorriso, e questo ci fa capire quando non si possono pubblicare dei tratti molto semplici ma intensi. Grazie.